Difendete l'obiettivo Ascolti La bomba è stata piazzata Il nostro U2 è in volo Bombardamento Nappa all'incorso B-52 in attesa del segnale B-52 in arrivo U2 alleato in arrivo A-2 alleato in arrivo Bombardamento Nappa all'incorso B-52 in attesa di ordini Bombardamento Nappa all'incorso U2 pronto Cani in attesa del segnale Cani in arrivo U2 alleato in arrivo U2 alleato in arrivo SR-71 operativo U2 alleato in arrivo U2 alleato in arrivo U2 alleato in arrivo B-52 in arrivo Il nostro SR-71 è in culo V-52 in arrivo Bombardamento Napalm in corso Il tempo è quasi scaduto B-52 in attesa di ordini Ui disponibile Ottimo lavoro squadra Preparatevi al prossimo round Demolizione Distruggete gli obiettivi Suoi alleato in arrivo La bomba è stata piazzata B-52 in arrivo B-52 in arrivo Cani in attesa del segnale Cani alleati in arrivo Ai di avvicinamento Il nostro u2 è in volo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cani alleati in arrivo. Yui in avvicinamento. Bombardamento Nafalm alleato in arrivo. Bombardamento Nafalm alleato in arrivo. Yui pronto. Il nostro U2 è in volo. Bombardamento Nafalm in corso. Cani alleato in arrivo. Cani alleato in arrivo. Bombardamento Nafalm alleato in corso. Yui. 1 attesa del segnale. Cani alleato in arrivo. anderen. Nafalm alleato in arrivo. River Ice eventually. Dino perdevo. Nafalm alleati. U2 alleato in arrivo B-52 in arrivo Ui disponibile Cadi in attesa del segnale D-Mobile Cani alleati in arrivo S-R-71 operativo Approvvigionamenti alleati in arrivo Ui in avvicinamento R-C-XD alleato operativo Il tempo è quasi scaduto B-52 in attesa del segnale Ui disponibile Cani in attesa del segnale Abbiamo perso il round ma non è finita Preparatevi al prossimo Demolizione Difendete gli obiettivi Cani in attesa di ordini Ui alleato in arrivo Bombardamento NAPALM alleato in arrivo Cani in attesa del segnale OI sanitaro suda Sanitaro suda Sanitaro suda Bombardamento NAPALM in corso La bomba è stata piazzata Bombardamento NAPALM in corso Cani in arrivo B-52 in arrivo B-52 in avvicinamento B-52 in attesa del segnale Il tempo è quasi scaduto S.R. 71, nemico in culo Bombardamento NAPAL, nemico in avvicinamento Juve pronto Grazie per la visione!